Con cittadini, amici di Taranto e non solo, non ci troviamo nella selva di Dante Alighieri della Divina Commedia, ci troviamo al Parco Cimino, quello che è un polmone di verde, certamente bello perché madre natura ha dato tanto a Taranto e ha dato anche questo polmone di verde, ma purtroppo i tarantini hanno avuto anche la sventura politica di avere l'amministrazione Melucci che in quattro anni e mezzo, vedete come disamministrando, passatemi questa espressione, come ha ridotto questo polmone di verde, quella che era una pineta in cui si andava a correre in cui c'erano i vari percorsi, i vari sentieri che appunto accoglievano i visitatori, invece ora il degrado è assoluto, non viene effettuata la manutenzione, gli alberi crescono in maniera selvaggia, non vengono potati, non c'è nulla di appunto governato, di amministrato, di gestito, c'è solo la natura selvaggia e diventa assurdo, diventa impossibile per chi vuole fare una corsa, per chi vuole prendere un po' di aria, penso agli anziani, penso ai ragazzi e diventa anche pericoloso poter camminare in una vera e propria foresta, passatemi questa espressione, o comunque un bosco. Un tempo c'erano, dicevo, i sentieri, c'erano le staccionate, c'erano i vari percorsi che si facevano, come detto poc'anzi, il percorso vita, ora erano varie le terminologie, ora nulla, completamente nulla, l'abbandono più totale e questo è il risultato dell'amministrazione Melucci. Melucci dice di aver seminato la rinascita, se questa è la rinascita traete voi le conclusioni. Guardate, una vegetazione assolutamente selvaggia, guardate qui cosa c'è, alberi che crescono in maniera ovviamente spontanea, pini che tendono a piegarsi in due, guardate per esempio quello che sembra potersi spezzare, piegare da un momento all'altro, immaginate cosa può accadere con la pioggia, col vento forte e poi magari qualcuno che ci passa, magari se lo ritrova addosso. Definirlo un parco urbano è un'offesa all'intelligenza dei cittadini. Un abbandono, un degrado mai visto, da qui se fosse stata operata una potatura avremmo potuto fruire della meravigliosa visuale del Mar Piccolo, ma immaginate un po' i bambini se possono giocare in un'area così degradata e così pericolosa. Si parla tanto di alternativa alla grande industria, all'ex silva, di polmoni verdi e poi i polmoni verdi che abbiamo li teniamo così abbandonati a se stessi. Povera Taranto. Questi dovevano essere i percorsi di cui vi ho parlato poc'anzi, è davvero impossibile realizzare un percorso del genere in una situazione siffatta. E guardate un po', i bagni chiusi e guasti. C'è scritto i bagni sono guasti e sono chiusi. Guardate che scempio, che abbandono totale, che tristezza. Questa è la rinascita che l'amministrazione Melucci dice di aver appunto seminato. Le immagini parlano da soli. Guardate un po'. E chiedo all'ex sindaco Melucci, quando i frequentatori del Parco Cimino devono fare i loro bisogni, cosa fanno? Vanno a fare la pipì tra gli alberi? No, me lo spieghi, caro Melucci, lei che dice di aver seminato la rinascita. Questa è una Taranto che deve essere rivoltata come un calzino. Lo faremo insieme, perché non posso permettere che un'area meravigliosa sia ridotta a un cesso. Sì, proprio così. Anzi, a un cesso chiuso.